La storia del biscottificio Mattei è una storia tutta italiana. Antonio Mattei ha creato questa azienda nel 1858 dedicando il colore azzurro dei nostri sacchetti, che era il colore dei Savoia, all'unità italiana. E' il racconto dei sacrifici e della passione di Antonio Mattei e di tre generazioni della nostra famiglia Pandolfini ed è il racconto anche della voglia, del desiderio di affermare un'idea, che poi è diventata tradizione. La tradizione dei biscotti di prato, dei filoni con i canditi, dei brutti buoni, della torta mantovana, tutti prodotti che sono diventati delle vere e proprie tipicità del territorio. Oggi la nostra sfida è quella di mantenere inalterata nel tempo la qualità dei nostri prodotti. Per fare questo dobbiamo essere fedeli alle ricette che ci sono state tramandate e ai metodi di lavorazione tradizionali. Ovviamente la scelta di materie prime, di qualità eccellente, è fondamentale. Ma è fondamentale anche l'energia per noi, quella che riscalda i nostri forni. Un'azienda come Estra, che ci fornisce energia e che condivide la stessa idea di impresa e la stessa passione, per noi è fondamentale.